amici e amiche carissime buona serata a tutti benvenuti bentornati o bentrovati sulla e sulle frequenze di questa nuova puntata che la decima del ciclo di catechesi in onore di maria santissima punto intitolato la madonna negli scritti di maria valtorta stiamo facendo questo viaggio nella figura nella vita da oggi cominceremo bene a approfondire anche la vita terrena di maria santissima e di questa straordinaria creatura al fine di conoscerla meglio al fine di potercela rappresentare anche meglio in una prospettiva che sia un tempo stesso come appare straordinariamente da questi scritti da un lato molto molto realistica e quindi che ci mostra quanto davvero lei sia sotto certi aspetti una di noi però al tempo stesso di quanto sia divinamente realistica ricordiamo sempre che per non sbagliare sulla madonna bisogna tenere presente queste cose la madonna era una donna normale sì bisogna vedere cosa si intende con normale nel senso che era fatta come noi cioè un animo un corpo le braccia le gambe la bocca il naso le orecchie i capelli sì e anche che appariva del tutto normale come noi nel senso che non dobbiamo immaginare nella vita della madonna ma nemmeno quella di gesù come trascorsa un metro a un metro da terra con il limbo intorno alla testolina insomma o che stava sempre insomma in come dire pubblicamente in estasi levitazione cose di questo genere quindi sotto questo punto di vista era una vita normalissima ma dentro le anime santissime di gesù e di maria si svolgeva uno spettacolo completamente ininterrottamente divino ecco di una santità e di una portata assolutamente al di là di quello che mente umana possa immaginare ringraziamo il signore che è un po e maria valtorta un po mi perdono insomma la cara luisa piccarreta queste due grandi italiane tra l'altro quasi contemporanei che hanno veramente dato questi grandi regali a chi li vuole accogliere ci consentono di entrare un pochino ecco di più in questo mondo noi sappiamo che evidentemente il mondo di gesù e di maria è definito e circoscritto in maniera normativa vincolante categorica diciamo così tassativa e come dire certa e invalicabile dai dogmi e della sana e dalla sana dottrina che insegna la santa chiesa cattolica quindi quello che noi facciamo è semplicemente un guardare più a fondo ma evidentemente come fa il teologo che ha scritto questo testo dentro evidentemente un contesto di approfondimento di tutte quante le verità già note rivelate di maria santissima quindi andare a scoprire meglio qualche cosa che rimarrà comunque misterioso perché non l'abandona rimarrà come nostro signore gesù cristo fondamentalmente un mistero però dentro questo mistero insomma riusciremo a vedere dei bei particolari insomma assai avvincenti interessanti e che sicuramente se abbiamo l'animo disponibile all'accoglienza ci faranno amare di più maria santissima sappiamo che l'amore è sempre mosso dalla conoscenza noi non possiamo amare chi non conosciamo e quindi evidentemente conoscere meglio gesù e maria approfondire la loro conoscenza serve fondamentalmente a aumentare l'amore non per niente insomma l'antico immortale catechismo di san pio decimo ci diceva con una sequenza non casuale che dio ci ha creato per conoscerlo amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo nell'altro quindi primo conoscerlo perché perché se non lo conosci non lo vuoi amare e solo se lo ami come dire lo servirai volentieri d'accordo fare qualunque cosa per lui perché è l'amore che muove la molla delle nostre azioni se noi siamo innamorati tutto è leggero tutto è facilissimo insomma da fare per coloro che amiamo senza l'amore tutto è difficile e pesante bene fatta questa un po troppo prolissa e mi scuso introduzione passiamo all'argomento di oggi adesso si apre la sezione che si intitola molto ampia maria nel corso del tempo che la precede nella versione digitale del testo del roschini siamo a pagina 109 questa sezione sarà poi articolata in alcuni punti il primo che vedremo sicuramente oggi è il famosissimo protovangelo quindi maria la donna del protovangelo la prima profezia subito dopo il peccato originale genesi 3 15 essa ti schiaccerà porrò in amicizia tra te la donna tra la tua stirpe la sua stirpe questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno poi ci sarà una sezione dedicata alla profezia di isaia sulla vergine madre dell'emmanuele isaia 7 se non ricordo male ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio sarà chiamato emmanuele che significa dio con voi isaia 7 14 poi c'è l'altra profezia che è la radice di isaia un germoglio un virgulto spunta dal tronco di isaia un germoglio dalle sue radici altra profezia di isaia chiaramente da intendere in chiave cristologica e mariologica poi quel bellissimo passo di geremia misterioso 31 22 una donna chiuderà in sé l'uomo e infine ecco una rassegna che sarà insomma oltre modo spettacolare oltre che ampia sulla sposa del cantico dei cantici perché la sposa del cantico dei cantici attenzione che il cantico dei cantici parla anzitutto del rapporto tra gesù e la madonna evidentemente a partire da questo il rapporto tra gesù e la chiesa a partire da questo il rapporto tra gesù e ogni anima che accoglie il suo invito all'amore e intesse con lui come lui desidera un rapporto appunto polarizzato e tendente all'amore vediamo il brano di oggi comincio la lettura la donna del protovangelo la donna del protovangelo Genesi 3 15 Maria Santissima è stata predetta da Dio nel cosiddetto protovangelo subito dopo la caduta dei nostri progenitori a causa del serpente infernale io vorrò l'inficizia fra te o serpente e la donna fra la tua discendenza e la discendenza di lei essa ti schiaccerà il capo e tu ti avventerai al suo calcane di questa celebre profezia che è la regina di tutte le profezie cristologico mariane la Valtorta ha parlato in molti luoghi dei suoi scritti cominciando dall'Evangelo 207.10 la nuova Eva è stata concepita dal pensiero con la P maiuscola attenzione ai piedi del paradisiaco pomo perché del suo riso e del suo pianto fugasse il serpente e disintossicasse l'attossicato frutto lei si è fatta albero dal frutto redentore dal principio del libro la Sacra Scrittura si parla di lei e di lei si parlerà nei libri futuri proseguo la lettura prima di fermarci nel commento nel discorso tenuto a Betlemme nel primo anno della sua vita pubblica sulle macerie della casa della donna uccisa dal re Erode perché aveva ospitato quelli che si dicevano padre e madre del Messia Gesù si introdusse con un accenno alla profezia del protovangelo cito siamo all'Evangelo 74 paragrafi 7 ed 8 Gesù empie la piazza della sua voce potente virgolette inizia a parlare a lui nella Genesi è detto io porrò in nemicizia fra te la donna essa rischiaccerà il capo e tu reinsiderai nel calcagno e ancora è detto io moltiplicherò i tuoi affanni le tue gravidanze e la terra produrrà triboli e spine questa la condanna dell'uomo della donna e del serpente venuto da lontano a venerare la tomba di Rachele tra parentesi la tomba di Rachele si trova realmente tuttora nelle vicinanze di Betlemme ancora visitabile ho udito nel vento della sera nella rugiada della notte nel pianto dell'usignore al mattino ripetersi il singhiozzo della Rachele antica ripetuto da bocche e bocche di madre di Betlemme nel chiuso dei sepolcri o nel chiuso dei cuori e ho sentito rugire nel dolore di Giacobbe nel dolore dei vedovi consorti senza più sposa perché il dolore l'ha uccisa piango con voi ma udite fratelli della mia terra Betlemme terra benedetta la più piccola delle città di Giuda ma la più grande agli occhi di Dio e dell'umanità perché culla del salvatore come dice Michè appunto perché tale perché destinata ad essere il tabernacolo su cui si sarebbe posata la gloria di Dio il fuoco di Dio il suo incarnato amore ha scatenato l'odio di Satana porrò in emicizia fra te la donna essa ti terrà sotto il suo piede e tu insiderai il suo calcagno quale nemicizia è più grande di quella che ha permetta ai figli il cuore del cuore della donna e quale più forte piede di quello della madre del salvatore ecco perciò che naturale fu la vendetta di Satana vinto il quale no non al calcagno ma al cuore delle madri per la madre avventò la sua insidia o moltiplicati affanni del perdere i figli dopo averli partoriti o tremendi triboli dell'aver seminato e sudato per la prole ed esser padre senza più prole ma giubila Betlemme il tuo sangue più puro il sangue degli innocenti ha fatto via di fiamma e porpora al Messia la folla che è andata sempre più rumoreggiando da quando Gesù ha nominato il salvatore e poi la madre dello stesso ora ha un più chiaro indizio di agitazione taci maestro dice Giuda e andiamo ma Gesù non lo ascolta continua al Messia che la grazia del padre Dio salvò dagli ranni per conservarlo al popolo per sua salvezza puntini puntini e prosegue e anche il roschini ci mette ci mette punto ora qualche piccolo commento su queste su queste su queste battute allora a prescindere dalla valenza mariologica bellissima no cioè il discorso il discorso è questo qui allora per capire anche tante cose il cristianesimo non si può capire se non si fa un discorso serio serio completo dottrinalmente fondato esaustivo dogmatico diciamolo anche questo termine che a qualcuno non piace sul diavolo d'accordo? sul demonio il demonio non è un optional nella dottrina cattolica purtroppo perché è per la tentazione del diavolo che la razza umana si è rovinata il proto evangelo la profezia di genesi 3 15 è profezia che profetizza una lotta tra chi tra un membro della razza umana dello stesso sesso di quello che è stato fatto cadere per prima dal diavolo una lotta feroce che comprenderà insidie al calcagno di lei e schiacciamento della testa ma questa è una lotta però una lotta reale 1 2 il ruolo di Maria come nuova Eva che è stato un tema che i padri della chiesa non pinco pallino d'accordo? cioè la prima grande riflessione mariologica che nella chiesa è stata fatta fin dai tempi di santi reneo ma anche prima sulla madonna è stata Maria è la nuova Eva la redenzione è stata un riproporre la coppia nuovo Adamo nuovo Eva Cristo Maria che hanno fatto l'antitesi della vecchia coppia Adamo ed Eva rovesciando e vincendo il diavolo scendendo in campo contro di lui però affrontando un combattimento terrificante d'accordo? perché Gesù Cristo è morto in croce non è morto de sonno e la madonna non è morta in croce col corpo ma è morta nel cuore d'accordo? quindi non è stata una scaramuccia cioè una passeggiata è stata una cosa terrificante atroce oh qui chiaramente la storia si ammanta di mistero perché tutti quanti noi pensiamo ma scusiamo cioè c'è un'altra grande opera di letteratura mistica e se un giorno si facessi un ciclo su quella durerebbe 15 anni insomma che è la mistica città di Dio di Maria da Greta sapete che c'è scritto lì che cosa dice la madonna quando quando è scelto di andarsene qui parla della strage degli innocenti di corsa in Egitto la madonna la madonna gli è venuto in mente ma il nostro signore ma te pare che c'ha paura di un tiranno ma lo fulmina se vuole no? ma non l'ha neanche formulata al nostro signore questa obiezione ha preso ed è partita questa è una cosa che a noi ci lascia certamente sconcertati ma te pare che lì ci sta il figlio di Dio fatto uomo e ora c'è il galletto Erode che si mette a fare il pazzo e poi avrebbe fatto un macello perché ha fatto una strage di bambini innocenti qui ci sono in termini drammatici capito? bambini morti ammazzati cioè che poi tra l'altro ne parla in termini drammatici ma anche in termini poetico eroici no? giubila Betlemme perché il sangue più puro degli innocenti ha fatto via di fiamma e porpo la messia e la gente comincia a svalvolare Giude Scariota che è l'immagine della prudenza umana e mondana dice state zitto che ora questi già trippano ma che dici che gli hanno ammazzato una caterva dei ragazzini allora perché tutto quanto questo discorso io lo dico come dire lo dico questo da cristiano non tanto da prete d'accordo perché Sant'Agostino diceva per voi sono vescovo e con voi sono cristiano io certamente sono sacerdote adesso sto anche come dire facendo una catechesi quindi esercitando il ministero della predicazione però io anche mi pongo dinanzi a queste cose mi pongo come tutti no? che cosa voglio dire? qui c'è un mistero il mistero è questo qui che il male ha un certo margine d'azione certamente permesso da Dio ma purtroppo ha un certo margine d'azione noi ci dobbiamo fare i conti e a volte non cioè che cosa significa questo qui significa che come un tempo si diceva la vita cristiana è una milizia è un combattimento non è un combattimento dice San Paolo non dobbiamo combattere contro i nostri simili d'accordo? contro le creature di sangue e di carne né ammazzandole fisicamente né ammazzandole con le parolacce o con gli insulti o con altre cose la battaglia è contro gli spiriti del mare ma è una battaglia feroce qui Gesù spiega dice allora alla Madonna non ha potuto toccare il diavolo e si è vendicato ha fatto una strage andando a far soffrire morendo di dolore in alcuni casi alcune donne immaginate se la nostra mente parte a briglia sciolta ma questo ripeto lo dico come cristiano dice ma signore ma perché succede una cosa del genere ma abbi pazienza fermala no? se può fare questa domanda qua all'altissimo non si può fare questa domanda qui all'altissimo d'accordo? anche se è umano che sorga però il fatto cioè dinanzi ai fatti che noi non riusciamo bene a comprendere ci sono delle limitate possibilità di spiegazione limitate possibilità di spiegazione questo qui noi purtroppo non possiamo fare una vita e oggi questo è un problema un pochino diffuso come se il diavolo non esistesse o fosse un accidente è certamente che il nostro signore il diavolo l'ha già vinto sulla croce è certo che la sua azione non è limitata che è un cane in catena certamente va tutto bene però c'è e se uno non sta attento e fa finta e pretende di fare i conti senza l'ostro questo fa un sacco di guai io rimango quando vedo tutte quante queste cose cioè è chiaro che parlo da cristiano mi metto in un atteggiamento di umile fede osservo soffro mi porto certamente delle domande che non è possibile una risposta perfettamente esaustiva ma che cosa traggo l'insegnamento attenzione 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 perché nostro signore Gesù Cristo e con la Madonna sono scappati perché se San Giuseppe facendo il discorsetto non l'avrebbe mai fatto in quanto San Giuseppe ma facciamo un periodo ipotetico dell'irrealtà se io domani metto a partire in Egitto che so quando parlo non so quando parlo non so quando torno il nostro signore ci penserà lui a 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 impedire che il figlio muoia siamo sicuri che le cose sarebbero andate così come sono andate punto interrogativo cioè Dio ha fatto avere a Giuseppe e a Maria la cognizione di un pericolo scatenato dal diavolo perché se mettessero un salvo e il diavolo che aveva come obiettivo di colpire la madonna che la sospettava essere non ha mai avuto la certezza quello che sarebbe stata vistosi gabbato e impedito ha scatenato il finimondo si è vendicato e questo è un dato di fatto questo è chiaro che Gesù già qui la dà una una lettura noi con gli occhi umani certamente dinanzi a un dolore del genere rimaniamo esterrefatti lui che li vede in modo divino giubila Betlemme il tuo sangue più puro il sangue degli innocenti ha fatto via di fiamme e polpore al messia anche se uno legge i martirologi dei primi cristiani quando c'era una scena di un martirio c'erano delle descrizioni trionfali eroiche veramente sembrava insomma cioè che uno li legge e gli potrebbe anche venire il pensiero cattivo e peccaminoso ma questi stanno fuori sono fanatici sono non lo so non lo stanno né fuori non sono né fanatici cioè guardano le cose in maniera soprannaturale il martirio nella teologia dei primissimi secoli era la forma massima di conformazione a Cristo ed era anche la vittoria del combattimento finale contro il diavolo capito combattere fino al sangue tu mi ammazzi per farmi rinnegare il signore ma io non lo rinnego io a lui gli dono anche la vita e muoio come è morto lui perdonando amanti i miei assassini ecco la grande vittoria sul diavolo perché col diavolo non si vince opponendo una forza più grande di lui che noi non ce l'abbiamo ce l'aveva nostro signore ma lui non ha voluto combattere così noi non ce l'abbiamo la possibilità lui ce l'avrebbe avuta ma non ha voluto fare così e quindi noi dobbiamo prendere esempio perché la lotta col diavolo non si combatte col mitra se combatte con la santità con la virtù ecco va bene questo perché questo schiacciamento della testa come l'ha fatto la madonna come schiaccia la madonna la testa al diavolo san luigi scrive nelle sue opere c'è un solo odio divinamente stabilito un odio divinamente stabilito questo lo dice san luigi maria grignonda monfort non è ancora dottore della chiesa spero che lo diventi presto ma è santo canonizzato d'accordo un solo odio stabilito da dio quello tra la madonna e lucifero e quello tra la sua stirpe la stirpe di maria e la stirpe di lucifero perché ce ne sono due ci sono due stirpi e quando si incontrano due appartenenti a stirpi diversi c'è proprio un'idiosincrasia proprio congenita non si sopportano si stanno antipatici è chiaro che poi quelli della stirpe buona non lo sopportano e pregano per lui invece quelli della stirpe cattiva non lo sopportano e lo perseguitano non so che ti accorto però c'è questa cosa ecco ma l'odio di maria non si manifesta così come si manifesta l'odio di noi umani nel senso di andare a fare del male a lucifero a parte che non so nemmeno se si possa fare del male a un essere spirituale ma si manifesta facendolo crepare di rabbia cioè mandandogli in fumo tutti quanti i suoi piani fondamentalmente con una santità prova di bombe così il diavolo va al manicomio se uno vuole mandare il diavolo al manicomio vuole farlo rodere e poi crepare deve diventa santo ma no santo per scherzo santo sul serio e un'altra consapevolezza cioè questo vale per qualcuno fra gli ascoltatori magari ci sarà qualche confratello quando qualcuno è destinato a cose significative e importanti a il diavolo lo sgama perché stupido non è e appena lo sgama ti trasforma in bersaglio cioè tu diventi un punching ball d'accordo nel senso che si scatena con una serie di cose che appariranno abnormi dice ma ma che ti dici ma ma io sono un po' romo tu ti pensi di essere un po' romo ma se il nostro signore ha dato una missione delicata importante già un prete degno di questo nome è sufficiente ad essere un bersaglio non indifferente del diavolo perché un prete degno di questo nome converte le anime le strappa al potere del diavolo e questo è fargli il più grosso danno che gli si potrebbe fare quindi se qualche mio caro confratello ascolterà queste cose che sicuramente le sa meglio di me non si preoccupi se vede scatenarsi il finimondo intorno a sé è tutto normale se non si scatena vuol dire che il diavolo ti sta lasciando perdere ma quando paradossalmente si scatena intorno a noi il finimondo deve diventare un'occasione per accident direbbe Sant'Omaso per dirci cerchiamo di rafforzare ancora di più la fedeltà l'unione con Gesù l'impegno per la santità perché se il diavolo ce l'ha tanto con me ci sarà qualche motivo che forse non so manco io qual è? ma sicuramente ci sta perché questa è una legge ok? nessuna paura però consapevolezza e cognizione di causa sì perché noi non possiamo essere poi degli sprovveduti che il diavolo si mangia un pezzetto a colazione un pezzetto a pranzo un pezzetto a cena e tu sei come un tordo come un pollo come un alloc e ti fai sbranare come dice San Pietro attenzione che questo va in giro come l'ulgente cercando chi divorare ma se un leone arriva tu non ti devi far mangiare vivo devi cercare in qualche modo di difenderti bene leggiamo il secondo brano sempre sullo stesso argomento stavolta siamo durante il terzo anno della vita pubblica di Gesù e il contesto è dopo aver liberato un indemoniato che era stato virgolette incontinente cioè senza virgolette con termine un po' più prosaico lussurioso e Gesù assedisce attenzione per la carne satana entrò nell'uomo attenzione per la carne entrò nell'uomo e virgola felice se lo può fare virgola per la carne vi rientra già Gesù qui sta dando una lettura evidente del peccato originale per la carne entrò nell'uomo cosa hanno sempre insegnato i santi quelli che io conosco tutti qual è il peccato che porta più anima all'inferno punto interrogativo non è il più grave di tutti ma è quello che porta più anima all'inferno qui ci sta una letteratura che non finisce mai qual è sono i peccati contro il sesto comandamento che anche se oggi si ha un pochino di paura a dirlo bisogna ridirlo perché non è che siccome oggi c'è un disordine e una situazione dove tante cose sono decodificate come normali dalla cultura in cui stiamo anzi è anormale non farle questo rimane vero e non c'è nessuna conversione autentica non c'è nessuna santità meno che mai divine volontà a cose di questo genere se sull'argomento sesto comandamento non si rientra perfettamente nella legge di Dio punto d'accordo e basta il motivo è molto semplice perché in Re Venera non datur parvitas materie d'accordo e tutti quanti hanno una coscienza tutti che quando fanno certe cose anche se non hanno avuto anche per trascuratezza o anche per ignoranza tutta la formazione cristiana ma la coscienza ti rimorde quando fai certe dice ma che stai a fa ma che è sta roba ma sei stato fatto per questo tu che sei un essere umano che c'è la dignità di figlio di Dio te lo dice d'accordo e anche perché un'infarinatura ce l'abbiamo avuta più o meno tutti quanti io parlo per per esperienza pluriennale insomma quindi lo so che è così proseguo spiega poi la donna doveva essere la dolcezza di Dio sulla terra qui attenzione alle donne che ascoltano che muove colui che è la manifestazione la testimonianza di quest'amore quale donna è stato questa una sola purtroppo ma tutte avrebbero dovuto essere così e io mi permetto di aggiungere tutte le donne cristiane non cristiane all'acqua di rose ma cristiane degne di questo nome che possono e devono trovare in Maria il modello a questo devono aspirare una donna sarà veramente donna non se assume tanto quanto è veramente emancipata e realizzata come donna non tanto quanto assume compiti fattezze stili e modi di vita simili uguali a quelli del maschio ma se fa questo la donna doveva essere la dolcezza di Dio sulla terra l'amore l'incarnazione di questo fuoco che muove colui che è la manifestazione la testimonianza di quest'amore la donna è colei che ama punto satana sapeva di questa perfezione attenzione a quello che dice satana astuto tortuoso e crudele si è insinuato in questa perfezione della donna e lì ha morso ha lasciato il suo veleno e la perfezione della donna nella mare è divenuta così strumento a satana per dominare la donna e l'uomo e propagare il male terrificante questa cosa ma le nostre madri allora domanda Giovanni Giovanni temi di loro non tutte le donne sono strumento a satana perfette nel sentimento attenzione sono sempre eccessive nell'azione le donne angeli se vogliono essere di dio demoni se vogliono essere di satana prego le donne di prendere appunti d'accordo le donne che ascolteranno questa cosa prendere appunti angeli se vogliono essere di dio demoni se vogliono essere di satana demoni incarnati le donne sante e la tua madre fra queste vogliono essere di dio e angeli sono giusto che è una cosa molto importante la donna conosce mezza misura la donna è un angelo o un demone o è l'immagine dell'amore o è la seduttrice punto o è ave o è eva o è eva o è maria non ti sembra ingiusta la punizione della donna maestro anche l'uomo peccò osserva un discepolo e Gesù risponde e il premio allora è detto che per la donna tornerà nel mondo il bene sarà vinto satana sentenza un altro discepolo contrapponendo la punizione della donna il premio della medesima enunciato nel protovangelo 3 15 genesi e Gesù risponde anche qui prendere appunti tutti maschi e femmine non giudicate mai le opere di dio questo per prima cosa facciamo un bel quadro grosso a carattere cubitale e ce lo attacchiamo sopra il letto non giudicate le opere di dio questo per prima cosa ma non ti pare un po' eccessiva la condanna della donna ha peccato pure l'uomo uno si leva gli occhiali strabuzza gli occhi e fa dico uè uè ma ti rendi conto che tu stai sottoponendo a giudizio come dire dei provvedimenti presi dall'altissimo tu te pensi di essere più intelligente di lui detto questo rimettiamo gli occhiali che se non ci si vede niente dico ma non giudicate mai le opere di dio questo come prima cosa bisogna sempre fare un passo indietro se tu non capisci e dio non è tenuto a spiegarti tu fai un passo indietro capisci tu non devi capire qui non è importante capire qui è importante stare imparare a stare a quello che dio fa e decide non capire ma pensate proseguo che come per la donna entrò il male per la donna è giusto che entri il bene nel mondo questo è il concetto patristico antichissimo della redenzione come rovesciamento di quello che hanno il contrario la donna peccato per primo la donna sarà il riscatto che colei che introduce nel mondo il riscatto nel genere umano vi è da annullare una pagina scritta da satana dice gesù e lo farà il pianto di una donna attenzione una pagina scritta da satana che cosa ha portato ha portato il riso gaudente disordinatamente di una donna poi lo vedremo e quel riso gaudente si rovescia col pianto ma col pianto dolorosissimo amarissimo lo farà il pianto di una donna con la D maiuscola e poiché satana urlerà in eterno le sue voci ecco che una voce di donna canterà per coprire quelle voci gli domandano quando e gesù risponde in verità vi dico che la sua voce è già scesa dai cieli dove in eterno cantava il suo alleluia sarà più grande di giuditta gli chiedono più grande di ogni donna risponde e che farà che farà mai replicano attenzione a questa risposta capovolgerà Eva col suo triplice peccato ubbidienza assoluta purezza assoluta umiltà assoluta su questo si trizzerà regina vittoriosa quindi cosa ha fatto Eva disubbidienza assoluta impurità assoluta e superbia assoluta quindi questo vale anche per noi è la disobbedienza formale a Dio quindi il peccato in senso stretto quando tu pecchi sapendo che quella cosa che fai è proibita dalla legge di Dio l'impurità e la superbia non posso dire parolacce ma sono sterco da cui starcene alla larga il più possibile perché sono le cose che ci separano da Dio gli chiedono ma non è tua madre Gesù collega la più grande per averti generato e sentiamo qui la risposta grande è colui che fa la volontà di Dio e Maria per questo è grande capiamo la risposta di Gesù e gli chiedono ma non è tua madre Gesù virgola collega è la più grande per averti generato no no non è grande per avermi generato lei mi ha generato perché ha fatto in tutto e per tutta la volontà di Dio qui rimandiamo agli iscritti di Guisa piccarreta come Gesù spiega se non ci fosse stata la volontà di Dio operante e vivente nella Madonna non ci sarebbe mai sceso lì dentro mai nonostante che fosse stata immacolata e tutta bella tutto quello che vuoi e Maria per questo è grande ogni altro merito viene da Dio ma questo è tutto suo e ne sia benedetta quindi guarda che siamo grandi anche noi possiamo essere grandi anche noi a voglia tanto quanto facciamo la volontà di Dio allora Santa di ieri sera che sta già online bellissimi passi del libro del Siracide chi è grande chi è l'uomo veramente grande colui che ha il timore del Signore il timore santo del Signore è quella disposizione che ti porta in tutto e per tutto mano a mano che tu lo conosci lo comprendi lo sai a fare quello che Dio vuole perché solo a lui vuoi piacere e rendere conto questo è il santo timore di Dio e questa è l'unica cosa che fa grande l'uomo ultimo brano prima della conclusione questa è un po' più breve stavolta tratto dalla lezione sulle pistole romani e la lezione è la trentatresima e l'uomo sentì nuovamente che solo Dio poteva consolare il suo dolore colmare il suo desiderio d'amore sorreggere le sue forze morali con le speranze eterne e con la promessa scese in Adamo insieme con la condanna che il suo seduttore sarebbe stato vinto e che la liberazione dalla sua stretta infame ossia la restituzione dello stato di grazia e quindi dell'eredità del regno dei cieli sarebbe avvenuta per mezzo della donna che essendo vergine avrebbe partorito l'Emmanuele il salvatore e il redentore ecco allora che la creazione assoggettata alla vanità e si potrebbe dire impedita a progredire verso la sua perfezione finale quella dello spirito sempre più trionfatore sulla materia riprese il suo cammino verso la luce verso l'alto verso Dio suo fine ai quali aveva tolto le spalle scendendo la china che non porta solo dal paradiso terrestre alla terra ma da essa verso i regni delle tenebre e del peccato ecco l'ultima cosa bellissima questa espressione insieme con la condanna perché c'è stata una condanna e questo ci faccia sempre pensare attenzione il fare del male ha sempre delle conseguenze l'uomo pur e qui c'è la meditazione di questa mattina senza mai dimenticare che Dio è anzitutto prima di tutto soprattutto e davanti a tutto amore e misericordia è anche giusto questo significa che le conseguenze delle nostre azioni sono conseguenze delle nostre azioni perché se tu fai male male te ne verrà insieme sempre alla possibilità di ricevere il perdono di Dio di convertirti di cambiare e di salvarti allora dopo il peccato originale c'è stata prima la requisitoria d'accordo e anche la non solo la requisitoria la lettura della delle sentenze di quel che sarebbe successo come conseguenza della colpa commessa la morte il lavoro il disordine nei rapporti tra uomo e donna verso l'intesa del sostinto mai gli dominerà i triboli che produce la terra i disordini nei confronti del creato la ribellione del creato a Dio non a Dio all'uomo però poi la promessa del riscatto la liberazione dalla sua stretta infame noi dobbiamo metterci bene in testa abbiamo parlato prima del diavolo e concludiamo fare un peccato significa consegnarsi nelle mani di una bestia senza pietà che una volta che ti ha messo quelle manacce stramaledette sul collo a strozzarti non te le toglie più a meno che tu non invochi il sangue di Cristo l'aiuto di Cristo che scende su di te e ti libera ma tu da quella stretta da solo non ti ci libererai mai ecco perché è semplicemente follia commettere un peccato volontario follia leggevo sempre ieri era sempre un quaderno di Maria Valtorta un un passo dove Gesù gli mostra la bruttezza del diavolo orribile orripilante e le quaderni del 43 e gli dice guarda la bruttezza del diavolo e la bellezza sua tu guarda l'uomo quant'è cretino non dice così ovviamente Gesù questa è una parafrasi un po' feriale che faccio io che ogni volta che pecca si va a mettere nelle grinfie di questo mostro quella dice se io non ho mai visto è una bruttezza non concepibile a mente umana una cattiveria un odio non concepibile a mente umana l'uomo abbandona me per andarsi a mettere nelle mani di questo e se morirà con le mani di questo addosso quello se lo prende non lo molla più il cristianesimo non esiste senza queste considerazioni quando a San Giovanni Paolo II andarono a dire c'è un sacco di gente che non crede nel diavolo ogni tanto qualcuno continua a sparare queste frottole a me ogni tanto me ne arriva qualcuna che il diavolo è un'entità astratta che il male è un concetto o che l'inferno è vuoto o che non c'è sta nessuno o che i cattivi vengono misteriosamente che ne so e hanno annichiliti ma non non si sa dove vanno che fanno o ehi qui c'è una chiarezza sostanziale di base che ce deve essere su questo bisogna avere le idee assolutamente chiare e distinte San Giovanni Paolo II quando sentiva queste cose gli rispose lasciate stare queste stupidaggini chi nega Satana e la sua azione nega Cristo e annulla il cristianissimo perché Gesù è venuto sulla terra per distruggere le opere di Satana e per riscattarci dalla schiavitù a Satana e per liberarci dalla morte che Satana ha introdotto nel mondo attraverso il peccato dell'uomo come San Paolo dice in termini chiari chiari se a qualcuno queste cose sembrano medievali obsolete che ancora stanno a fastidiscorsi nel 2019 pazienza insomma padronissimo di pensarla in questo modo ma la dottrina della chiesa non è affatto cambiata su questi punti non è affatto cambiata non cambia non può cambiare e non cambierà per cui se qualcuno ogni tanto se ne fa qualche uscita per la tangente se ne prende la responsabilità di quello che fa davanti a Dio ma insomma io come sacerdote come ministro della chiesa dico per favore non dategli retta si apre il catechismo della chiesa cattolica su queste cose ecco si si faccio una bella rinfrescata di idee perché le idee possono essere sempre ben chiare bene appuntamento se Dio vuole alla prossima puntata io vi do a tutti la mia benedizione ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltare questa piccola condivisione ne affidiamo i frutti a Maria Santissima alla prossima settimana a Maria Santissima a Maria Santissima a Maria Santissima